In Abruzzo si assiste a un depaperamento del patrimonio arborio alquanto generalizzato, fatto di abbattimenti, capitozzature e potature errate e scelte illogiche nelle zone a verde pubblico, quasi una vera e propria alberofobia. E quanto emerge dal report redatto dai tecnici del WWF e della cooperativa Cogestre. Ad illustrarlo oggi alla stampa Pescara, la delegata regionale Filomena Ricci, insieme alla presidente del WWF Chieti Pescara Nicoletta Di Francesco, al dottore forestale Caterina Artese e all'avvocato Francesco Paolo Febbo. In vista della giornata nazionale degli alberi che ogni anno viene celebrata in Italia il 21 novembre, il WWF Abruzzo ha presentato la proposta di creare un tavolo tecnico che raccolga diversi esperti, enti e associazioni e che funga come organo in grado di dare direttive e linee guida chiare su come e dove intervenire rispetto al patrimonio arboreo. C'è necessità di porre maggiore attenzione quando si fanno degli interventi sugli alberi, siano essi gli alberi in città o i viali alberati o i tagli buschivi. Purtroppo assistiamo troppo spesso a delle valutazioni fatte in modo inadeguato, monche, frettolose, che non danno una giusta considerazione e un giusto rispetto al patrimonio arboreo della nostra regione. I nostri boschi custodiscono specie uniche al mondo, citiamo sempre l'orso Bruno Marsicano per tutte ma ce ne sono tante altre e meritano quando si fanno degli interventi che ci sia un'attenzione un po' più approfondita. Gli alberi svolgono quelli che oggi si chiamano servizi ecosistemici, nel senso svolgono una serie di funzioni essenziali per la sopravvivenza dell'uomo sulla terra. Una funzione essenziale è quella dello stoccaggio dell'anidride carbonica, di cui sono responsabili i cambiamenti climatici. Altre funzioni che svolgono soprattutto in ambiente urbano riguardano l'assorbimento delle polveri sottili, quindi la riduzione dell'inquinamento, l'assorbimento del rumore. Poi la funzione principale che è da sempre riconosciuta al bosco e agli alberi è quella della funzione idrogeologica. Purtroppo manca probabilmente una organicità, una consapevolezza forse profonda da parte dei nostri amministratori dell'importanza dell'albero, che spesso viene associato ad un servizio, viene associato ad un'infrastruttura. Invece l'albero è un organismo biologico complesso, un organismo vivente, con strategie di sopravvivenza, di vita completamente diversa da quelle nostre.